Cesare, guarda che siamo in onda per l'anteprima, eh? Siamo già in onda, allora buonasera a tutte e a tutti. Ben trovato, Lorenzo, sei stato in ferie per una settimana, ma abbiamo fatto senza di te, come hai visto in onda. Eh, ho visto, ho visto, e devo dire che non mi siete neanche troppo mancati. Vabbè, però io ho utilizzato molto bene il tempo a disposizione perché sono andato in una scuola di magia, perché questa è una puntata speciale di Stato dell'Arte dedicata a Harry Potter. Guarda, qui ho la bacchetta, ho imparato ad utilizzarla. Guarda qua. Santa pace, che cosa ho combinato? Si vede che non sono andato in una straordinaria scuola di magia, quindi adesso la bacchetta la fermo. Comunque in questa puntata visiteremo una vera e propria scuola di magia, incontreremo la voce di Harry Potter. Certo che adesso fa anche un po' freddo con tutta sta tempesta, ma non puoi alzare un po' la temperatura in studio, Lorenzo? Anche per i nostri... Perché piove così, come faccio? Devo invocare quindi il nostro primo ospite, che è la voce di Harry Potter. Chissà se ci potrà aiutare. Incontreremo anche una detective dell'arte che ci mostrerà tanti riferimenti alla storia dell'arte nella saga cinematografica di Harry Potter. E poi avremo tanti giovani talenti della fotografia italiana. Entreremo nel chiostro del Bramante di Roma, visiteremo la mostra Emotion, quando l'arte contemporanea incontra le emozioni. E, dulcis in fundo, il grande Klimt, con uno dei suoi quadri più misteriosi, il grande ritratto di Signora. Cesare, però qua, se i temporali non smettono, altro che stato dell'arte sarà l'arca di Noè. Cesare, adesso ti insegno io a usare la magia. Lumos! E luce fu! Mi ha aiutato un mago vero, mi ha aiutato la voce di Harry Potter che tra poco incontreremo proprio qui nel nostro studio di stato dell'arte. Io però voglio continuare a provare la mia bacchetta perché non credo che sia troppo difettosa. Allora, vediamo se almeno, senza fare altri guai, riesco a lanciare la sigla, Rolenzo. Io mi avvicino al nostro operatore, non ti trasformi niente, te lo garantisco. E allora, guardo, punto in camera, aziono la bacchetta con molta attenzione, sigla! Ben trovati a Stato dell'arte, allora, speciale dedicato a Harry Potter e abbiamo in studio niente di meno che la voce di Harry Potter, del mago più famoso del mondo, e qui con noi Alessio Puccio. Bentrovato, Alessio. Grazie, grazie. Come stai? Molto bene, grazie. In studio abbiamo un pubblico d'eccezione. Sono dei giovani fotografi, delle giovani fotografe, appartengono all'Istituto Accademia Italiana e sono accompagnati dalla professoressa Germana Marchioni. Loro saranno protagonisti del nostro prossimo spazio, tutto dedicato alla fotografia contemporanea. Ma ora è il momento di parlare di magia e di grande doppiaggio con Alessio Puccio. Allora, Alessio, come hai cominciato il tuo percorso professionale? Quando, soprattutto? E ormai sono 30 anni e molti restano un po' sbigottiti quando dico questa cosa, però ho cominciato da bambino, avevo 7 anni. Noi abbiamo anche una foto, la foto numero 3 per la nostra regia. Vediamo che cosa abbiamo pizzicato su internet. Guardate, sei particolarmente giovane e ti chiederò dove ti trovi in questa fotografia. Adesso arriverà, questa è una puntata magica, quindi il nostro regista all'improvviso manifesterà questa foto. Allora, qui già sei avviato, perché questo in realtà è un cast, è proprio il cast di una parte dei doppiatori di Harry Potter. Noi, regia, volevamo la foto in cui lui era un po' più piccolo, no? Perché vogliamo proprio partire come nella saga cinematografica di Harry Potter, dall'inizio. Innanzitutto, tu quanti anni avevi quando hai cominciato? Allora, avevo appena compiuto 14 anni, 13-14 anni, insomma, stiamo là, ecco. Ho fatto un provino l'inverno e l'estate abbiamo iniziato a... l'ho vinto, ovviamente, e l'estate abbiamo iniziato a fare il film. E allora vediamo se, come per magia, si manifesta la foto numero 3. Eccola qui. Wow. Cosa accade in questa foto che ha pizzicato la nostra redazione su internet? Questo era il primo film, insieme a Letizia Ciampa, la voce di Ermione, eravamo proprio piccoli, proprio piccolissimi. Avevano ancora tutti i capelli, soprattutto. Noi poi abbiamo la foto di una parte del cast di doppiatori, l'abbiamo vista prima, ora la regia ce la mostrerà nuovamente. Allora, partendo da sinistra, ci racconti chi ha doppiato chi? Allora, da sinistra un giovanissimo Flavio Aquilone, la voce di Draco Malfoy, poi Erika Necci, che era la voce di Ginny Weasley, la futura moglie di Harry Potter, poi Letizia Ciampa, Ermione Granger, il grandissimo compianto Gianni Musi, la voce di Albus Silente, poi quell'altro ragazzetto molto bravo, Alessio Puccio, e l'altro ragazzo è Giulio Renzi Ricci, che è la voce di D-Ron, che non fa più questo mestiere, da un po' di anni si è trasferito a Londra e ha deciso di cambiare totalmente lavoro. Quindi tu sei stato la voce di Harry Potter. Sì. È vero che quando è cominciato questo lavoro, questo doppiaggio, tu non avevi letto il libro, in cui era protagonista Harry Potter, e non sapevi bene neanche chi fosse Harry Potter. Sì, diciamo insomma che tutti ci rimanevano male poi, perché insomma non hai letto il libro, non sai chi è. Infatti quando vinsi il provino, quella più contenta fu mia madre. Ecco, io vinsi il provino, per me era un film come un altro. Poi però piano piano mi sono appassionato e insomma nei vari film avevo preso questo impegno di leggermi il libro prima di iniziare il film, almeno sapevo insomma di che parlava, di che trattava. Ci racconti qualche dietro le quinte, qualche aneddoto curioso durante il doppiaggio di Harry Potter? Allora, ce ne sono tanti, sono passati tanti anni ormai, però insomma due o tre ne ricordo. uno in particolare che stavo quasi per morire, insomma ecco, non voglio esagerare. Si rischia a fare il doppiatone. Allora stavamo in sala, c'era una scena in cui Harry si trovava in acqua e poi usciva dall'acqua e quindi sputava l'acqua e non riusciva a parlare inizialmente. Allora l'allora supervisore inglese, perché avevamo sia il supervisore italiano che quello inglese in sala, disse Alessio proviamo questa scena così. si face portare una bacinella d'acqua in sala e misero il microfono dentro la bacinella. Io dovevo tenere la testa sott'acqua e poi tirare fuori la testa e fare lo stesso effetto che aveva poi lui. Quindi sputavo l'acqua eccetera. Solo che il grande Ray mi teneva la testa sott'acqua e non me la faceva tirare più fuori. Quindi io facevo questo... e quindi ho rischiato di soffocare. Ma l'ha fatto perché l'interpretazione doveva essere più veritiera. Quindi un po' bisogna soffrire. Nel campo dell'arte lo diciamo sempre, è una strada in salita d'altronde. E quindi quello fu insomma... Poi c'è un altro episodio, no? Perché i nostri fantastici autori mi hanno scritto che tu hai dovuto a un certo punto recitare con l'ovatta in bocca, è vero? Con l'ovatta in bocca fu tremendo. Fu tremendo perché insomma con tutta l'ovatta in bocca mi veniva da vomitare continuamente. Era una scena... Perché l'acqua in bocca? L'acqua in bocca prima, adesso l'ovatta in bocca. L'ovatta... Sembra la saga di Sonenichista più che il doppiaggio di Harry Potter. Comunque... Era una scena in cui praticamente subiva una trasformazione Harry, si trasformava in un'altra persona. Quindi doveva bere la famosa pozione polisucco. Polisucco, esatto. Perché insomma io sono un fan accreditato. Molto preparato. E certo. E quindi insomma dovevo camuffare il più possibile la voce e quindi questa recitazione con questo vatta in bocca fu tremendo, fu davvero tremendo. Perché in continuazione mi fermavo e veniva proprio da vomitare. Però tu sei anche un inguaribile romantico. Allora qual è la scena dei film di Harry Potter che ti ha colpito di più da questo punto di vista? Allora ce ne sono tante però diciamo che quella del... Insomma quella che penso abbia colpito un po' tutto il pubblico in generale è quella in cui Piton dice questa famosa frase always sempre rivolta a Silenten quando compare il Patronum Patronus, Patronum? L'incantesimo. L'incantesimo. E appunto compare... Patronus. Patronus, il cervo di Lily Potter sua amata e appunto Silenten dice gli chiede insomma dopo tutto questo tempo lui risponde sempre. E quella è una cosa insomma mi sono... mi sono anche... insomma me la sono fatta incidere anche nella fede. Senti ci puoi recitare una frase di Harry Potter a cui sei particolarmente legato? Allora... in realtà sono legato a una frase di Albus Silente perché io di Harry Potter sì ce ne sono ma insomma generalmente ricordo sempre le formule magiche ecco che piacciono molto a... E allora cominciamo... allora cominciamo con una formula magica. Beh... quella per eccellenza che è expecto patronum che è insomma la classica. E poi sono legato a una frase è una frase di Albus Silente in cui lui insomma afferma che anche nei momenti più bui si può ritrovare la luce bisogna solo ricordarsi di accendere... bisogna solo ricordarsi di accendere la luce. No! Mi sono sbagliato! Era anche nei momenti più bui si può ritrovare la felicità. Bisogna solo ricordarsi di accendere la luce. E noi sottoscriviamo d'altronde lo diciamo sempre qui a Stato dell'Arte che la vita è la ricerca della felicità. Noi ci crediamo davvero. Senti, quale credi che sia stato l'impatto sulla cultura popolare globale di Harry Potter e della sua saga? Beh è un impatto comunque importante ne parliamo insomma ancora adesso da 12 anni dall'uscita dell'ultimo film e ha attraversato diverse generazioni perché poi mi trovo a confrontarmi con fan più grandi di me o che hanno la mia età e con più piccoli di me addirittura ancora più piccoli i miei figli che hanno 1, 5 1, 10 anni anche loro si sono appassionati alla saga quindi insomma ha preso intere generazioni quasi un ventennio se non di più ecco è una cosa pazzesca che credo nessun altro film abbia mai fatto. Cos'è per te la magia? domanda da un milione di dollari qui è stato dell'arte sono ricorrenti lo dico infatti i nostri ospiti si prendono anche del tempo come nei quiz eh sì insomma bisogna rifletterci è una domanda che ogni tanto mi fanno e non so mai non so mai rispondere poi in maniera corretta diciamo lo sai a chi lo possiamo domandare a due veri e propri esperti di magia perché hanno fondato una scuola di magia che ora vi raccontiamo così guardate a chi lo so a chi lo so a chi lo so Grazie a tutti. Buonasera a Nicola Pignoli e a Vera Rossini dal Reame della Magia. Ben trovati. Buonasera, grazie. Allora, che cos'è per voi la magia? Domanda difficile. Allora, la magia per noi è quello che creiamo con i ragazzi quando vengono ai nostri eventi. I ragazzi fanno tre giorni con noi e noi gli facciamo vivere delle emozioni molto intense, molto forti e quando vanno a casa hanno le lacchime agli occhi e sono proprio emozionati. Questo per noi è la magia. Fate non credere, nella magia nei tre giorni che passano con noi. Fate sempre delle location bellissime per la vostra scuola di magia. La Rocca Sforzesca a Soncino, quindi in provincia di Cremona, il castello di Valverde a Bergamo. A Bergamo, come li allestite questi castelli, questi luoghi meravigliosi? Noi abbiamo anche un'altra sede nella foto castello per la nostra regia. Sì, in sostanza facciamo un sopralluogo nelle Valley Location, individuiamo degli spazi in cui ricreare gli ambienti che servono per il nostro evento e poi li allestiamo con le scelgative, con il materiale che abbiamo e che ogni volta spostiamo e ricomponiamo. Quali sono le materie che insegnate in questa scuola di magia? Allora abbiamo incantesimi, prozioni, erbologia, difespontro delle alte oscure, aritmanzia, antiche rune e divinazione. Cosa stiamo vedendo in queste foto esattamente? Che cosa stanno facendo i vostri allievi? Oddio, devo avvicinarmi un po'. In questa lezione stanno facendo incantesimi, quindi c'è una parte dell'eveco strutturato proprio come una scuola. Quindi c'è un orario e delle varie classi che a rotazione partecipano a tutte le lezioni. Quindi la prima ora si fa incantesimi, la seconda ora si fa pozioni, eccetera, eccetera. È un vostro corso di magia? Sì esatto, è proprio un corso, sono tre giornate in cui i bambini frequentano tutte le lezioni possibili. Ma è solo per bambini o anche per adulti? Perché qui abbiamo tanti candidati in studio, anche dietro le quinte. Allora, normalmente lo facciamo per i bambini dai 6 ai 13 anni. Abbiamo fatto anche in passato altri eventi per adulti, magari solo di una serata, però sostanzialmente nella maggior parte delle volte è dedicato ai bambini. Grazie, grazie a Nicola Pignoli e a Vera Rossini in bocca al lupo per la vostra scuola. Ed ora c'è un altro collegamento con una vera e propria detective dell'arte, Silvia Rossetti, collegata con noi da Novara. Buonasera Silvia! Buonasera Cesare! Allora, io ti ho convocata a Stato dell'Arte perché il nostro è un programma dedicato all'arte e alle arti. Ci stiamo occupando di Harry Potter, innanzitutto perché siamo tutti dei fan qui a Stato dell'Arte, ma anche perché la saga cinematografica è disseminata ed è ispirata spesso a delle opere d'arte che tu hai rintracciato. Partiamo dalla foto numero uno. Qui cosa vediamo? Un quadro molto famoso, naturalmente. Come si collega a Harry Potter? Mi riferisco a una notte stellata di Van Gogh sul Rodano. Io l'ho collegata a Harry Potter principalmente per la composizione delle immagini che poi noi ritroviamo quando vediamo per la prima volta la scena degli studenti che arrivano ad Hogwarts. Ci troviamo in entrambi i casi davanti a un notturno. Per Van Gogh una scena piena di colori. Lui stesso ripete al fratello Tio molte volte come la notte è più vivace e brillante del giorno. Quindi qui ci troviamo in una scena, sto parlando riferito al quadro, dove l'elemento naturale e la stazione si mischiano creando un'immagine evocativa che rimane nella memoria. E io in questa immagine ci ho visto, ci ho provato la prima volta quando ho visto come Harry, piccolo Harry, dalle barche, Hogwarts che si staglia nella notte sul Lago Nero. Quindi in entrambi i casi queste immagini non sarebbero state così potenti e iconiche se le avessimo viste di giorno. Come mai hai deciso di fare questo studio, questa ricerca tra i film di Harry Potter? Ma perché sono sempre stata appassionatissima della saga e ho conosciuto prima i film. Ricordo quando sono andata a vedere L'Ordine della Fenice al Cinema, che ancora facevo forse elementari. E guardando i film poi crescendo, appassionandomi di arte, ho deciso per i 40 anni di andare a rivedere se c'erano gli easter egg, perché comunque i registi, gli autori si sono sempre inseriti. Per esempio molti quadri che si muovono sono membri effettivi della troupe. E quindi pian piano ho colto l'occasione per andare a fare una ricerca più approfondita, cercando tutti quegli streghe artistici presenti nei vari film. Adesso abbiamo un'altra fotografia, la numero 2. Vediamo chi indovina, tra il nostro pubblico, dove ci troviamo? Quale film della saga di Harry Potter riguarda questa foto? In studio, Alessio? E i doni della morte? Sì, la prima parte però. Cosa nasconde dal punto di vista artistico questa scena, questa statua? Ci sono principalmente due citazioni. La prima riguarda, dal punto di vista più letterario, Magic is Might, la magia potente, che è una citazione alle frasi iconiche di George Orwell 1984, costruita come lo slogan, appunto, gli slogan del libro di ignoranza e forza, la schiavitura e libertà. E qui abbiamo la magia potente. È stata costruita quando Voldemort, nella storia ovviamente, è salito al potere. Dal punto di vista architettonico più storico-artistico, abbiamo un forte riferimento alla statua realizzata da Vera Mucina nel 1937 per l'Esposizione Universale di Parigi in pieno stile del realismo socialista. Perché cosa vediamo? Vediamo in entrambe le statue un uomo e una donna che, nel caso reale, sorreggono la falce e il martello, simbolo della rivoluzione bolcevica. In questo caso, due bacchette, un uomo e una donna che sono spalla a spalla, che tengono due bacchette simbolo, per quanto riguarda il mondo di Harry Potter, della magia che prevale sui babbani. In entrambi i casi, le sculture sono state utilizzate come strumento di propaganda politica. Adesso passiamo alla foto numero 4. Il film è Il prigioniero di Azkaban e c'è Piton, che sta mostrando alcune immagini. Pitture lupesti, geroglifici egizi e una ceramica greca. Che cosa ci racconta questa ceramica? Dobbiamo fare una piccola premessa. Siamo nel film in cui ci viene introdotto Remus Lupin, figura fondamentale nella crescita di Harry Potter e quell'anno di vivere un insegnante di difesa contro le arti scure. Questa è anche la scena dell'iconicissima frase andata a pagina 394 e appunto a pagina 394 ci viene introdotto il capitolo sui lupi mannari. Che cosa fanno? Gli sceneggiatori di Harry Potter e anche Quarombe in quel film si è divertito a seminare citazioni lungo tutta la pellicola decidono di prendere e manomettere alcuni manufatti realmente esistiti come hai appunto citato tu Cesare, i geroglifici, c'è anche una versione lupesca dell'uomo vittoriano. In questo caso manomettono un vaso del V secolo a.C. raffigurante una scena dell'Iliade dove un guerriero troiano si intromette nell'accampamento greco per piare appunto la loro formazione e in questo vaso viene raffigurato coperto con una pelle di lupo. La trasformazione qui è stata fatta come un lupo mannaro che insegue uno studente, non uno studente perdonatemi, un guerriero. Adesso passiamo alla foto numero 5 che ci mostra i famosi, terribili dissennatori. Siamo sempre all'interno del film Il prigioniero di Azkaban. Ecco, quando tu hai scorto i dissennatori a chi è pensato? A quale artista? A quale tipologia di dipinto? Li ho collegati principalmente alla poesca di Chiebecon. Un po' per l'aspetto. Rowling stessa, quando li ha scritti per la prima volta, li ha definiti come l'emblema della repressione e li ha collegati a un periodo triste e terribile della sua vita legato alla perdita della madre. E a livello visivo, in quanto sono creature che quasi lasciano un vuoto sul foglio. Sono creature pesanti pur essendo leggiate. e in particolare le ho ricollegate al ritratto di 1905, la sua seconda versione, dove il Papa è inghiottito nell'oscurità e sta urlando. Il gesto più evidente è forse il parallelismo tra le linee di dolore che Becon disegna sul volto del Papa e l'effetto che noi vediamo scenico del bacio del dissennatore, dove viene appunto risucchiata tutta la felicità e tutti i ricordi felici della persona che è sottoposta a questa tortura. Qui, in questo caso, Harry, prima c'è stato Sirius e quindi comunque un'immagine molto forte, molto evocativa che mi sembrava calzasse con la disperazione che Becon dipinge nei suoi quadri. Grazie Silvia. Grazie a Silvia Rossetti. Allora, Alessio, vedi quanti collegamenti. Ci sorprende sempre Harry Potter. Vero, vero, verissimo. Sono rimasto molto colpito, insomma. Da questa lettura artistica collegata alla storia dell'arte. Senti, tu sei un doppiatore importante, no? Hai dato la voce a tanti grandi attori anche nel Signore degli Anelli. Sì, ho fatto una piccolissima parte. Contano tutte. Però, insomma, era davvero... E in Forrest Gump? Forrest Gump è stato il mio primo film. Il mio primo film è doppiato, ovviamente. dove facevo, alla fine del film, facevo il figlio di Forrest, no? Ancora ricordo la frase, no? Lei è Dorothy Harris, io sono Forrest Gump. Quello è stato il mio primo film in assoluto. E l'attore, peraltro, era lo stesso che... del Sesto Senso e che invece ho ridoppiato, credo, su Intelligenza Artificiale. Insomma, vabbè, mi è capitato poi di ridoppiarlo anche più avanti. E in Openheimer? Openheimer, allora, devo dire la verità, il film non l'ho visto. Quando l'abbiamo doppiato ero uno dei vari professori, solo che il problema di questi film così importanti è che spesso non si vede nulla. E io doppiavo dentro un... vedevo solo la faccia dell'attore che doppiavo dentro un cerchietto. Però è stata comunque una cosa bellissima e perché, insomma, far parte di un film così bello, così importante, anche se in piccola parte, comunque è una cosa che mi inorgoglisce molto. Tu hai avuto uno straordinario successo con il doppiaggio di Harry Potter. Hai temuto che questo potesse inficiare lo sviluppo della tua carriera? Beh, sicuramente. Che ti potessero sempre associare al grande mago? Beh, sicuramente. Insomma, tuttora ancora mi chiamano ciao maghetto. Però, insomma, diciamo che all'inizio è stato un po' difficoltoso poi uscire da questa parte. Però, ripensandoci, insomma, tornando indietro, mi arrabbiavo, insomma, me la prendevo, ecco. Invece, comunque, è stata una cosa bella, importante, che mi ha fatto arrivare dove sono arrivato. Quindi, ero preoccupato, ovviamente, però il tempo poi ha risolto tutto. Beh, sei stato anche aiutato dal direttore del doppiaggio Francesco Vairano. Abbiamo una tua fotografia con lui. Lui è stato anche la voce del magnifico Severus Piton. In che modo ti ha aiutato? Beh, Francesco è un artista, insomma, completo. Mi ha tirato fuori il mio carattere, grazie a lui, insomma, in undici anni, insomma, di registrazioni di Harry Potter, insomma, mi ha forgiato, ecco, come doppiatore, anche come attore e anche come uomo all'interno di questo lavoro, ecco. Quindi, devo tanto a lui, devo davvero tanto. Un sogno nel cassetto come doppiatore. Un sogno nel cassetto come doppiatore. A chi vorresti dare la voce? Io, allora, un sogno è sempre stato Jim Carrey. Però, ovviamente, per ovvi motivi, insomma, non è possibile. Il sogno, insomma, è che questo lavoro continui, insomma, perché, ecco, adesso l'intelligenza artificiale spaventa un po' tutti i settori, anche il nostro, purtroppo. quindi, le mie, spero, spero che questo lavoro continui a esistere, anche perché le emozioni non possono essere artificiali, ecco. E noi, in Italia, abbiamo dei grandissimi doppiatori. Grazie. Grazie a te, Cesaro. Ciò è adesso linea alla pubblicità e poi ci immergeremo nella fotografia italiana contemporanea. A tra poco. Grazie a te, Cesaro.